Luigi Pirandello è forse uno degli autori italiani più famosi nel mondo, ma anche il più tormentato. Arrivò al premio Nobel come Eugenio Montale, come è stato recentissimamente per Dario Fo, ma dal suo carteggio, dal suo epistolario, conservò sempre un atteggiamento problematico nei confronti della vita e nemmeno con l'onorificenza così elevata riuscì a placare il suo crucio per l'esistenza. Sono raiissime infatti le foto in cui sorride per esempio, ha una lunga vita, qua in questo schema sono ricordate le cose essenziali, la sintesi dell'essenziale, ma è un autore su cui si potrebbe fare un discorso praticamente infinito. Per capire qualcosa di più vediamo un pochino la timeline della sua vita. Nasce in Magna Grecia, a Girgenti, da una famiglia medio-borghese non particolarmente benestante ma di condizioni comunque agiate. Nasce in Magna Grecia importante perché nella sua produzione teatrale, che conosce il successo molto tardi, Pirandello dopo i 45-50 anni esplode come autore teatrale in mezzo mondo, infatti farà diverse tourne in America, tenterà sempre, accanto alla dissoluzione del teatro tradizionale, di recuperare la sacralità della scena, che era tipica del teatro greco e della Magna Grecia. Nasce molto vicino alla breccia di Porta Pia, quando Roma diventa capitale e al governo della sinistra parlamentare. Va a Roma per studiare. La sua era una famiglia molto tradizionalista, poi vedremo com'è, il padre gli trova una moglie e lui, un po' come per Bastianazzo, nema la voglia, a cui il padre, padron Toni, già nome padron, trova una da sposare, dice sì, senza battere ciglio. E Pirandello, che è legato al verismo molto più di quanto si possa pensare, per sua stessa ammissione, obbedisce. Comunque, a Roma, litiga correttore e doveva laurearsi in glottologia. La sua laurea la prende a Bonn, con una tesi sui dialetti greco-siculi. E siamo già nel 1891. L'anno dopo va a Roma tra le ire del padre che lo voleva in professioni ben più sicure e remunerative e si dedica alla letteratura. Però, ecco, per vivere scrive articoli, insegna e viene sposato, è il caso di dire, ad Antonietta Portolano, di famiglia benestante e soprattutto proprietaria di una zolfatara. Questo è un particolare molto 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 importante. Avvia una carriera di insegnante e comincia la sua fase, diciamo, iniziale dei romanzi. Nel 1900 viene assassinato Umberto I e quindi è un periodo di grandi fermenti e di grandi cambiamenti. Il suo primo romanzo, che oggi viene considerato una grande opera, ma all'epoca ebbe un'accoglienza molto 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 tiepida fu l'esclusa, che è un romanzo abbastanza particolare. È la variazione tragicomica del dramma borghese Lui, Lei l'altro. L'esclusa è una donna che viene additata come adultera per un adulterio che non ha mai commesso. Il marito la chiude in casa, poi quando decide di perdonarla e capisce che non gli è stata fedele, lei lo tradisce e il marito se l'ha. A questo punto non può far altro che restare con la moglie. Questa è una trama tipica del teatro pirandelliano, che parte, come dicevamo, dalla situazione del teatro borghese della pochette alla Georges Feidot, lui, lei l'altro, per costruire un vero e proprio dramma che ricorda quello delle tragedie greche. Non ci scordiamo che Pirandello viene dalla Magna Grecia. In questo romanzo si comincia a trovare uno dei temi caratteristici della scrittura pirandelliana. La considerazione negativa dei rapporti e dei legami sociali. Anche a livello familiare non vengono messi solo in crisi gli ideali risorgimentali di Dio, patria e famiglia, come sarà nel romanzo di Rompente i vecchi e i giovani, dove i vecchi sono quelli che hanno fatto risorgimento e i giovani quelli che ne subiscono la degenerazione. Qui salta tutto, gli effetti familiari, la religione, quelli che Pirandello chiama i lanternoni, non sono altro che delle vacue illusioni e soprattutto va in crisi l'identità individuale del personaggio, l'esclusa. La donna ditata come adultera alla fine ricopre quel ruolo che non si sentiva tradendo il marito che l'ha esasperata, con la mentalità moderna diremmo tutti oggi, beh, in fin dei conti se l'è voluta. Preimmaginiamo una società borghese dove la fedeltà coniugale femminile, ahimè, era considerata un dogma intoccabile. Ecco, lei non sa più chi è, ma neanche il marito. Anticipa quella dissoluzione del personaggio che nei romanzi era il suo apice, nel fu Mattia Pascal e in Uno Nessuno e Centomila che è considerato il capolavoro della produzione scritta di Pirandello. Critica e corrosione del genere romanzesco. Pirandello non è più legato al romanzo positivista e verista italiano, anche se lui si professa alunno di verga. Basta leggere una qualsiasi delle novelle per un anno, che in realtà non furono 365, ma poco più di 250, che Pirandello scrisse nel corso di decenni, per capire che prende le mosse dal verismo, in particolare da verga, che lui definiva scrittore di cose, mentre D'Annunzio era lo scrittore di parole, era un giudizio per D'Annunzio che pensavano in molti. Ecco, e si incaponisce, si accanisce sui meccanismi della nativa verista per smontarli e farne vedere tutta l'inconsistenza. Sono romanzi ottocenteschi falliti. E poi l'umorismo. Nel 1908 Pirandello, per un concorso universitario, ecco, poi vedremo perché, anticipiamo poi torniamo alla timeline, crolla la zolfatara della moglie. La famiglia Pirandello portò la nuova rovina, quindi ha bisogno di soldi, e la moglie dà i primi segni di squilibrio mentale grave. Non a caso la pazzia è un tema ricorrente nelle opere pirandelliane, la pazzia o quella che gli altri credono pazzia. Così è se vi pare che, tratto dalla novella La signora Frola e il signor Ponza suo genero, Il treno affischiato, altra novella prova proverbiale. E poi l'ultimo, l'Enrico IV, che è una delle sue ultime opere che è proprio incentrato sul tema della follia, punto interrogativo. Cioè, follia perché sei considerato folle perché divergente o lo sei veramente? Neanche tu hai la risposta. Che cos'è l'umorismo? Dice Pirandello, è un'erma bifronte di cui una faccia ride del pianto dell'altra. E quindi l'assoluta relatività del punto di vista. I romanzi l'esclusa, la donna accusata di adulterio, e si basa praticamente, fatti molto pochi, proprio sui discorsi di marito e moglie, che alla fine accettano di vivere una realtà che è un po' come Pirandello definiva la vita, una enorme pupazzata. Cioè, capiscono tutti e due che il gioco dei ruoli e delle parti, altro titolo di una sua grande commedia, è inconsistente e vuoto, ma non se ne può fare a meno. Ecco. E fu Mattia Pascal, altro grande romanzo, pubblicato a puntate come era costume dell'epoca. Mattia Pascal è rimasto orfano di padre, ha una gioventù, a dir poco, avventurosa, combina diverse marachelle, da cui mette incinta una, istigato, perché c'era un figlio che non arrivava, si trova a vivere una vita che non è la sua e fugge, fugge, ed è aiutato dalla sorte, perché viene ritrovato un cadavere con addosso i suoi documenti. È un'incongruenza narrativa, ovviamente. A Monte Carlo vince una somma considerevole al casino e assume una nuova identità, quella di Adriano Meis, che non esiste però. Gira per l'Europa, però quando affitta una stanza Roma, non ha documenti, non risulta nell'archivio anagrafico dello Stato, né tantomeno del Comune di Roma, non può avere assistenza medica. È una specie di ectoplasma con un nome, si innamora di una donna e decide a questo punto di far morire Adriano Meis. Chi diventa? Non si sa. Torna al paese sotto mentite spoglie e trova che la moglie si è sposata con il suo antico amico e poi rivale e si chiude, si mura vivo nella biblioteca a scrivere le sue memorie, ma contentandosi ogni tanto di portare dei fiori sulla propria tomba. È una situazione assurda e paradossale. È tipica di Pirandello. Nessuna delle forme in cui la società ti costringe, rende giustizia di te, ma neanche te sai chi sei. È una trama ottocentesca, quindi l'adulterio, la paternità, le morti, lo scambio di identità, la vincita al gioco, tanti colpi di scena, ma è una mescolanza di comico e tragico. Una vicenda assurda, ridicola, colma di miseria umana e di sconfitta esistenziale. Ecco, e cosa fa? Fu Mattia Pascala, Adriano Maeso, fu Mattia Pascala, questa sorta di personaggio che diventa un ectoplasma vivente, che è una contraddizione. Si arrovella in continuazione, i personaggi di Pirandello sono molto cerebrali, sul perché dell'esistenza e non lo trova. Dirà Pirandello stesso, cercare la logica dal caso, è come voler cavare il sangue dalle pietre. E Mattia Pascala è un personaggio che tenta, il primo, di sfuggire al ruolo alla maschera, ma capisce che uno dietro quella maschera non c'è nulla e che questa maschera che ti costringe è però al tempo stesso necessaria per avere un tuo posto nella società. Quindi il fallimento totale. Relativismo filosofico ed esistenziale assoluto. E poi quello che viene considerato il vertice della produzione dei romanzi pirandelliani. Uno, nessuno e centomila. Pubblicato solo nel 25-26. È l'evoluzione ironica del Mattia Pascal. Un'altra cosa importante, nei romanzi pirandelliani l'azione è ridotta al minimo, è quasi zen. I fatti che hanno determinato, come anche nelle commedie, la situazione che lo spettatore o lettore si trova davanti sono già accaduti e tutta la trama, una non trama, un po' come la coscienza di zeno che è una non trama, va avanti attraverso le parole dei personaggi che hanno un'unica fissazione. Capire chi sono e prendono tutti consapevolezza che quel ruolo che ti costringe a rivestire la società, quella di madre, di figlio, di padre, di amante, di quello che vuoi, in realtà è un ruolo inconsistente. Ecco, Mattia Pascal a un certo punto si sente dire dalla moglie che ha un difetto nel naso, una piccola coppa e partendo da una cosa che apparentemente è insignificante comincia un cammino che rasenta la follia, e la follia aveva un ruolo molto importante, dicevamo, anche nella vita di Pirandello stesso, che lo porta ad essere un deviante. Lui è figlio di un usuraio e decide, e lui stesso prestava soldi a interesse, decide a un certo punto di risarcire le vittime di questa pratica illegale e lo prendono per pazzo. la gente del paese lo crede impazzito, lo molla la moglie, sta per avere una relazione con una giovane donna che lo ha sempre attirato, e chi è lui? Uno, di D'Angelo Moscarda, centomila, ognuno lo vede in modo diverso, ma nessuno, perché scopre che dietro i ruoli che la società gli assegna, dietro la visione che addirittura di se stesso non c'è nulla. Cosa fa allora? Si ritira in un ospizio, rinuncia persino al proprio nome, un ospizio da lui stesso costruito, e qui le interpretazioni sono discordi, perché da una parte questo è un fallimento, sembra un fallimento totale su tutta l'innea, dall'altra alcuni critici sostengono che Vitangelo Moscarda, rinunciando al proprio nome, torni a uno stato di naturalità, quasi primigenia, che è un mito della letteratura greca, infatti, non a caso, come un animale, come un elemento della natura. Ecco, l'io e la natura, questi sono due poli attraverso i quali si svolge l'azione pirandelliana. Non ci scordiamo che Pirandello, siamo nei primi anni del Novecento, vede la rivoluzione tecnologica e anche lui con la tecnologia ha un pessimo rapporto. La natura è l'alternativa alla civiltà, infatti, la sua ultima opera, I giganti della montagna, incompleto, le sue ultime parti le dettò mentre era praticamente quasi moribondo al figlio. Parla del teatro, ma nel teatro nel senso greco, sacrale, in contatto con la natura. Sappiamo bene che il teatro greco poggiava su un declivio collinare, per cui si passa dalla razionalità spietata. Pirandello tratta i suoi personaggi smontandoli con una razionalità che sembra veramente qualcosa di sadomaso, all'irrazionalità, all'istinto, quasi al surrealismo. Il fu Mattia Pasquale. Ecco, crolla la miniera nel 1903, si allaga, cosa che succedeva, la zolfatara della moglie e la famiglia Pirandello-Portolano veramente rischia di andare in rovina. Da quel momento in poi e fino a quando decollerà la sua carriera di gigante del teatro, sia lui che la moglie se la passeranno male, e i figli ovviamente. Nel 1904 il fu Mattia Pasquale, nel 1908 diciamo il saggio L'Umorismo, dove viene espressa la famosa poetica del sentimento del contrario. E Pirandello, scrittore di cose, come verga utilizza un qualcosa che lui ha visto. Dice, che cos'è l'umorismo? Immaginate una donna di età avanzata che si imbelletta come un pagliaccio e si agghinda come una ventenne anche se non ha più l'età per portare certi vestiti. Voi mi mettete a ridere, la trovate ridicola, compassionevole e ridete. Poi però venite a scoprire che un marito molto più giovane di lei e per tenerselo è disposta anche a umiliarsi e quindi non ridete più. Ecco, l'umorismo è un'erma bifronte di cui una faccia ride del pianto dell'altra. Siamo all'assoluto relativismo delle posizioni. Si introduce in Italia il suffragio universale maschile e nel 13 finalmente comincia, ormai è in età abbastanza avanzata, a dedicarsi al teatro, che è preceduto però da un romanzo dove, forse in un caso unico, entra la storia, la storia nel senso cronologico. Le opere di Pirandello, è stato detto, potrebbero essere ambientate nel passato remoto come nel lontano futuro, perché trattano di temi universali. Nel romanzo I vecchi e giovani, che ebbe una larga eco, entra la storia d'Italia, ma è l'unico caso. Non ci scordiamo, non è mai male ripeterlo, che Pirandello è nato nella Magna Grecia e il suo riferimento è il teatro greco, che è universale per definizione. Agamennone, Clitemnestra, Lorestia, De Lettra, sono personaggi universali perché sono validi in ogni tempo e in ogni luogo. Nei vecchi e giovani Pirandello fa un po' la voce fuori dal coro come era sua abitudine. I vecchi sono quelli che hanno fatto risorgimento, i giovani sono quelli della sua generazione e come anche Carducci, che ricordiamo nell'Ode dinanzi alle terme di Caracalla prega la dea febbre, di far ammalare la classe dirigente sabauda che ha tradito gli ideali risorgimentali di democrazia e di eguaglianza delle varie parti del paese. Finalmente, a ridosso della prima guerra mondiale, che spazza via tutta la civiltà ottocentesca, come si vede benissimo nella coscienza di Zeno, il mondo diventa maturo per capire il pensiero pirandelliano. Pirandello non è un pensatore, più che altro un sofista, cioè uno che tende a smontare in maniera quasi cattiva i meccanismi dell'esistenza. E queste commedie, pensaci Giacomino, che parla di un matrimonio coperchio, il berretto Assonagli, il cui protagonista Ciampa è un contabile che tiene la moglie sotto chiave. Perché non lo tradisca scopre che la moglie lo tradisce col segretario di cui lui aveva piena fiducia. Ma il finale è paradossale, sembra una storia tipo lui e l'altro, diciamo, quasi una pochade, una commedia borghese di tradimento, ma il finale è paradossale. Ciampa dice, potevo non saperlo. Se non lo sapevo stavo meglio. E in tutte le rappresentazioni di questa commedia si conclude con tutti gli attori che belano facendo il gesto delle corna. Poi, così è se vi pare. Che è una pietra a miliare, forse anche più dei sei personaggi in cerca d'autore che è considerato, diciamo, il pezzo icona. Come i gruppi musicali hanno il proprio pezzo la commedia icona di Pirandello. Così è se vi pare non è da meno. Gran parte delle opere teatrali di Pirandello, che intanto comincia ad avere successo e soldi, sono tratte dal suo sterminato repertorio di novelle. Pirandello scrive novelle per trent'anni oltre. Così è se vi dicono, è tratto da una novella che si chiama La signora Frolle e signor Ponza suo genero. Si svolge in un caseggiato popolare. Pirandello tratta di tutte le classi sociali. Non se ne fa sfuggire una. E quindi in un caseggiato c'è una donna sposata un uomo dalle fattezze quasi scimmiesche. Una caratteristica di Pirandello è che i personaggi rispondono sempre, hanno un aspetto fisico che risponde sempre all'immaginario del pubblico. Nella novella La Patente, dove c'è un protagonista chiaro, un povero disgraziato che viene accusato di essere uno iettatore, cosa fa? chiede la patente reggia di iettatore per guadagnare da questa sua croce che gli hanno gettato addosso e va in giro con gli occhiali in corno come un gufo vestito di nero, allampanato. E il marito di questa signora viene descritto come un uomo basso, grassoccio, col collo taurino e i peli che gli escono dal colletto della camicia. Qualcosa di veramente spiazzante. Tiene segregata la moglie. La madre gli parla mandando gli messaggi attraverso un panierino tirato su con una corda. Questo dicono alcuni. Altri dicono no, la madre è impazzita per la morte della figlia e il marito è talmente pietoso che nei confronti della suocera mette in scena, questa messa in scena. E di nuovo torna il tema della pazzia e dell'ambiguità. Il finale è ancora più spiazzante. Pirandelliano Doc arriva in scena e la donna che non viene mai presentata ha una veletta in testa, se la solleva e dice per quel che mi riguarda io sono colei che mi si crede. Cioè ognuno di me ha una visione che però non corrisponde a quello che sono, ma nemmeno io riesco a capirlo. Si gira uno scritto che parla della nascente industria del cinema, che anteciperà i quaderni di Serafino Cubbio, operatore. Terminata la guerra fa internare la moglie in una casa di cura, una decisione dolorosa. Pirandello rimarrà sempre fedele alla moglie, anche se sentimentalmente si legherà a Marta Abba. Abbandona l'insegnamento, ha insegnato dappertutto per guadagnare soldi e finalmente nel 21 al teatro Eliseo viene rappresentata quella che è la commedia di Pirandello per definizione, che manco a dirlo ebbe un esito ambiguo. Metà del pubblico applaudì fino a spellarsi le mani e metà del pubblico tentò addirittura di picchiare l'autore. È una vicenda che fa crollare la quarta parete. Pirandello non si contenta di dissolvere e scardinare la struttura del romanzo tradizionale, scardina anche il concetto di teatro. La commedia inizia nel momento in cui un autore che potrebbe essere lui come chiunque altro ha in mente una storia terribile. Infatti si fa capire che è ambientata in una casa di tolleranza. Dal foglio o in alcuni allestimenti dalla scena escono questi sei personaggi che sono la madre, il figlio, la giovane donna, non hanno un nome vero e proprio e cominciano a chiedere all'autore se è in grado di rappresentare il loro dramma umano in maniera efficace. E ogni volta che l'autore propone la sua versione i personaggi dicono no. Ecco perché sei personaggi in cerca d'autore. E tutta la commedia va avanti coinvolgendo lo spettatore perché a quel punto non c'è più separazione tra la scena e il pubblico. Sembra quasi un gigantesco happening in cui gli spettatori sono chiamati a ragionare ad alloverlarsi anche loro su questi sei personaggi termina in maniera tragica con un colpo di pistola. Anche qui si mescolano il tragico, il grottesco, il comico, il ridicolo e addirittura la morte. Questo è la commedia che lo consacra. In tutta l'Europa, in tutta l'America, i suoi spettacoli fanno il pieno tutte le sere. Nel 24, proprio nell'anno dell'assassino di Giacomo Matteotti, colui che etichettò in maniera perfetta il fascismo definendolo non un'ideologia ma un crimine, pagando con la vita questa sua affermazione quanto mai vera, Pirandello si fa la tessera del partito fascista. Ma anche qui, Pirandello fascista? Punto interrogativo. aterisce al fascismo. Se non fosse stato così non avrebbe potuto recitare. Lui, con l'appoggio anche di soldi pubblici, fonda una compagnia teatrale, un teatro proprio. Passa dal teatro dell'attore al teatro di regia, in cui è il regista che nel caso suo è anche l'autore a determinare la facis, l'aspetto dello spettacolo. E da un punto di vista burocratico ha bisogno della tessera del partito nazionale fascista. Se andiamo a vedere però, magari sarà stato pure convinto, Pirandello non era molto democratico. Però se andiamo a leggere con attenzione alle sue commedie, un po' tutte, il bersaglio preferito della sua ironia feroce e dissacrante, proprio quella borghesia piccola e media che fu, diciamo, il plateau di consensi maggiore anche numericamente del fascismo. Quindi Pirandello fascista? Bel punto interrogativo. Comunque nel 25, l'anno in cui Mussolini vara le leggi fascistissime che si sorrappongono allo statuto Albertino e aprono ufficialmente il ventennio, fonda la compagnia del teatro d'arte, un suo teatro personale che poi, dopo un po' verrà chiuso per i costi eccessivi. Escono i quaderni di Serafino Cubio Operatore, ripresi da, si gira, di che cosa parlano? Dell'industria del cinema che stava nascendo in quegli anni. Pirandello è un po' come un tecnofobo. Chi è Serafino Cubio? Un operatore, uno che girà la manovella delle vecchie macchine da presa, deve riprendere la scena di un domatore in un circo. Cosa succede? Mentre lui riprende, le due tigri che stanno davanti al domatore lo divorano. Lui rimane instupidito da questo massacro e diventa l'operatore perfetto, un ebete privo di sentimenti che si limita a girare la manovella per riprendere le scene e permettere poi il montaggio del film. Diventa uno spersonalizzato. Beh, diceva Henry Ford, disse Henry Ford nel 1901, l'operaio è un pezzo della macchina. Definizione aberrante. E la celeberrima scena di Chaplin, tempi moderni del 1912, dove si vede Charlot che viene risucchiato dagli ingranaggi della macchina. Serafino Cubio viene risucchiato, instupidito da quello che riprende e diventa l'operatore perfetto. Una macchina per muovere una manovella. Nel 26 uno nessuno è 100.000, considerato da tutti l'acme della produzione del romanzo pirandelliano. Nel 34 vince il premio Nobel, ma neppure quello purifica la sua inquietudine esistenziale. Ci sono le leggi razziali e poi muore di polmonite. È interessante notare che a partire dal 38-39, quando anche l'Italia si adegua alle leggi razziali tedesche, in realtà il razzismo in Italia è sempre esistito, diciamo che si adegua politicamente, molti chiudono col fascismo. Pirandello mora nel 36, lasciando una fama che dura tuttora. Vediamo ora, sempre molto rapidamente, perché è un discorso che potrebbe occupare anni, quali sono i numerosi temi pirandelliani? Ecco, il primo è questo, la liquidazione del soggetto e del suo mondo sentimentale. Il soggetto, il personaggio, i suoi sentimenti non esistono, in primis l'amore, i lanternini, le passioni individuali o i lanternoni, gli ideali come lo Stato per esempio, come le convenzioni sociali. Ecco perché prima di dire che Pirandello era un fascista completo, bisogna pensarci dieci volte e non una, perché nelle sue commedie viene criticato il concetto stesso di società e di Stato che in quel momento stava diventando totalitario. Dove esistono le passioni? Nel ricordo oppure nella messa in scena, che a sua volta è una finzione. Le convenzioni sociali borghesi sono solo vuote formalità e poi la maschera. Pirandello curerà un'edizione delle sue opere teatrali che è tuttora il nome di Maschere nude, che è uno simolo. Una maschera non può essere nuda, perché ti veste di un personaggio che è necessario per vivere, ma alla fine ti soffoca e neanche tutti ci riconosci. C'è soluzione? No, è il fallimento totale. Quindi è impossibile vivere senza recitare una parte imposta dalla società, ma nella quale neanche tutti conosci. Infatti sei personaggi in cerca d'autore e quest'autore non lo trovano, perché non trovano nessuno scrittore, autore che riesca a rappresentare verosimilmente il loro dramma. E poi ecco questo, la sua contraddizione più insanabile, il contrasto tra vita e forma. La vita è un flusso continuo. Beh, sembra veramente la ripresa della tesi greca del fiume che corre Pantarei, no? Che è sempre uguale e sempre diverso. Nel momento in cui però tu nasci, ti stacchi e ti porti un pezzo di questo flusso che viene ingabbiato in un contenitore. Sei figlio? Sei figlia? Sei personaggio pubblico, personaggio privato? Che però uccide la vita, la imprigiona. E allora qual è la salvezza? La pazzia? E' nel Enrico IV, di cui parleremo tra poco. Il rinunciare al nome, come Vitangelo Moscarda, di uno a nessuno a centomila, chiudendosi in un ospizio, tornare a una naturalità che conosce solo il flusso della vita nella quale le varie differenziazioni si annullano? Oppure diventare fu Mattia Pascal? Nessuno lo sa. E poi il gioco dei ruoli e delle parti. I vincoli delle convenzioni sociali assegnano ognuno un ruolo che è soffocante, ma senza il quale tu non vivi. Mattia Pascal, morto, probabilmente era il cadavere di qualcun altro, questo lo sappiamo, diventato Adriano Meis non è nessuno. Muore anche Adriano Meis. E poi ecco il relativismo. I valori sono solo ed esclusivamente convenzioni, con tutti i loro limiti. Ecco, rivediamo per terminare in questo schema contrasto tra forma e vita. È questa la chiave per capire Pirandello. La vita è un flusso continuo, il fiume pantarei, il principio è sempre quello. Quando nasci vieni prelevato da questo continuum e ingabbiato. La contraddizione feroce è che senza questa capsula in cui viene inserito non potresti vivere, ma al tempo stesso questo bozzolo, questo ruolo, uccide la vita. La società ti impone di portare una maschera, figlio amante, insegnante, amico, fratello, sottoposto. Ma questa maschera ti soffoca e tu stesso scopri, andando a usare il cervello, il razziocinio, tutti i personaggi di Pirandello diciamo si arrovellano le meningi per capire chi sono e non lo capiscono perché non c'è niente da capire. Questa maschera non corrisponde neanche a quello che te stesso pensi di te. C'è un monologo delirante di uno nessuno al centomila dove il povero Edangelo Moscarda si guarda allo specchio, chiude gli occhi, li riapre e dice io non so se quello che ero prima di chiudere gli occhi è lo stesso che sono quello dopo che li ho aperti. Sì, veramente. E poi la dissoluzione dell'io. In questo contesto l'io non esiste più. È frammentato, è apparenza. Ovviamente si rinuncia alle passioni, la morale borghese non esiste più e allora qual è la velocità? Togliersi la maschera? Sì, ma a condizione di accettare che dietro questa maschera c'è il vuoto. L'ultima commedia che rappresenta bene. L'altro tema grande di Pirandello, la pazzia, a lui molto caro tra molte virgolette perché la moglie impazzisce, ha un esaurimento nervoso ma non lo vuole più vedere e Pirandello la fa internare anche perché comincia a maltrattare i figli e una delle figlie lì arriva quasi al suicidio. Quindi lo vive drammaticamente. È l'Enrico IV. Durante una festa in maschera il personaggio vestito da Enrico IV cade, batte la testa e impazzisce. E allora tutti i vicini pietosamente simulano una sorta di The Truman Show dell'epoca, lo fanno vivere in una realtà fittizia spacciandole alla pervera. È solo che a un certo punto questo personaggio commette è un delitto. E allora per sfuggire alla prigione si finge pazzo, sempre col punto interrogativo. Perché il pazzo, diceva Pirandello, vede la realtà al di fuori delle convenzioni borghesi. Nei manicomi si trovava spesso un cartello che riportava una frase pirandelliana i veri sani stanno dentro e i pazzi sono fuori. Pirandello l'avrebbe sottoscritta in pieno. Il protagonista, questo Enrico IV, alla fine non si sa bene se scivola nella pazzia o usa la pazzia come alibi. Come si conclude la commedia? Il protagonista accetta di rivestire vita natural durante i panni di questa maschera che lui indossava. E infatti si chiude con la frase lapidaria Enrico IV per sempre, che lascia veramente basiti. Ecco, questa è l'altra chiave per intendere tutta l'opera del grande Luigi Pirandello.